presentare entro 18 mesi un decreto legge per l'utilizzo delle terapie digitali a partire dalle app per renderle fruibili ed omogenee in tutte le regioni è questo il prossimo obiettivo dell'intergruppo parlamentare sanità digitale e terapie digitali che ha presentato al ministero della salute alla presenza del ministro orazio schillaci il documento programmatico per far entrare il servizio sanitario nazionale nell'era digitale ne parliamo con massimo beccaria general manager di advice pharma gruppo sapio che ruolo potranno avere le terapie digitali dal punto di vista delle aziende farmaceutiche per me avranno sicuramente un ruolo strategico ad oggi il mercato del pharma si sta sicuramente evolvendo e sempre di più anche i cittadini richiedono dei supporti digitali per le proprie cure in particolar modo le terapie digitali hanno la possibilità di essere diciamo stand alone e di curare da soli quindi abbiamo già visto anche in molti trial che l'unione del del punto farmaceutico quindi del dare la classica pastiglia che ha un principio attivo e che cura e della parte di medical device legate alle terapie digitali che curano anch'esse possono amplificare la cura stessa verso il paziente e sempre di più poi ci sarà anche il tema del dato importante che sottende le terapie digitali le terapie digitali di per sé sono hanno la capacità di incamerare moltissimi dati immaginate magari la cura sull'obesità che viene utilizzata magari in due anni da qualche milione di obeso quanti dati può generare e quanta conoscenza potremmo poi in seconda battuta generare da questi dati quindi per me vanno a completare un'offerta terapeutica che è propria del campo delle aziende farmaceutiche è ovvio che oggi stiamo vedendo questo incremento in maniera sempre inesorabile lenta ma inesorabile proprio perché comunque è chiaro che anche le aziende farmaceutiche devono innovarsi cambiare la parte organizzativa e non è una cosa che si fa dall'oggi al domani tuttavia molti headquarter ormai iniziano ad avere un offering che collega all'offerta chimica del farmaco all'offerta chiaramente digitale per avere una maggiore cura e anche una differenziazione sul mercato chiudo dicendo che su questo tema in particolar modo col Politecnico sono stati individuati circa 12 modelli di business possibili legati alle un mondo farmaceutico dove le big pharma possono fare la differenza e quindi anche migliorare la propria penetrazione di mercato oltre chiaramente che curare i pazienti che è il primo punto essenziale facciamo qualche esempio di questi 12 a certamente la prima è immaginatevi un farmaco magari già in col brevetto scaduto quindi con un con un prezzo anche rimborso relativamente molto basso immaginatevi di unire un farmaco ad esempio su ipertensione di unire una terapia digitale a quel punto anche tutto il mercato si vedrà magari allo stesso prezzo regalando la terapia digitale si vedranno dei pazienti che potranno scegliere da una parte il classico farmaco dall'altra parte un offering dove c'è il farmaco più qualcosa che li curerà di più meglio e con tutti i dati con tutto lo storico è chiaro che per me l'azienda che farà questa scelta potrà avere un market share maggiore prendendolo dalle altre un altro esempio è il modello freemium che mi piace moltissimo dove sempre terapia digitale può essere completata con una serie di servizi come avviene in molti altri settori dove per esempio sull'obesità posso cliccare sulla mia app che mi cura e avere un nutrizionista che magari mi segue on demand e magari pagare per questo servizio che è molto semplice sul quale raggiungerlo dopodiché ci sono veramente moltissimi altri modelli legati anche a come si evolverà il sistema paese non ultimo anche sulle politiche di rimborso che peraltro germania francia già adottano sarà una partita che giocherà solo big pharma o anche le start up tecnologiche avranno un ruolo e se sì quale potrà essere a mio avviso entrambi devono avere un ruolo il problema delle start up tecnologiche e che sono si creano hanno un'ottima idea ma senza la possibilità di avere un'infrastruttura sul quale innestare l'innovazione sarà molto difficile d'altro canto le big pharma hanno un problema nell'acquisizione e la gestione delle start up perché spesso e volentieri le possono soffocare se non hanno al loro interno un'organizzazione capace di gestirla ho visto ad esempio big pharma che chiedono il modello 231 ad una società di cinque persone che magari è un'ottima idea che chiaramente è fuori luogo da questo punto di vista o chiedere dei valori di compliance molto elevati proprio diciamo a gruppi più più grandi viceversa magari la grande idea non è solo quello che può fare la differenza tenete conto che per produrre una terapia digitale ci vogliono dai due tre anni investimenti importanti è proprio un dispositivo medico da costruire da zero con un'ottima idea con questo non significa che diciamo non si possa trovare una quadra però va trovata l'italia è competitiva l'italia secondo me è competitiva come sempre nell'atto delle competenze abbiamo secondo me degli ottimi clinici abbiamo degli ottimi inventori scusate se uso luogo comune ma è vero o vedo veramente l'alta qualità quello che non abbiamo purtroppo la burocrazia che ci sostiene e creare quello che è stato fatto in passato nel creare un ecosistema chiudo con un esempio che mi è molto caro sapete che diciamo nel campo di informatica abbiamo invitato qui in italia federico faggini inventò il primo microprocessore abbiamo il primo computer della storia un olivetti ed è nostro e però silicon valley è stata fatta e negli stati uniti ecco non vorrei che di nuovo questa cosa si ripetesse quindi magari creare l'infrastruttura e l'environment necessario in italia potrebbe essere importante su questo ci sono diverse iniziative magari sfruttare i fondi del pnr non sarebbe male